La prima cittadina di Battipaglia che aveva chiesto varie volte ai tavoli istituzionali di svolgere verifiche e controlli inerenti agli impianti di trattamento dei rifiuti nella zona battipagliese raccoglie i primi furti. Vari infatti le segnalazioni di cittadini che avevano inviato la sindaca a far intensificare i controlli. In pochi giorni già due ditte sono state controllate, l'ultima questa mattina dopo che nella scorsa settimana i carabinieri avevano apposti i sigilli ad altra ditta sempre nell'area della zona industriale. I nostri solleciti alle istituzioni hanno portato all'ennesimo sequestro, quello di oggi, ancora una volta un impianto per il trattamento dei rifiuti speciali. Ebbene, posso confermare che il nostro progetto di controllo del territorio continua in piena sinergia con la magistratura e con le forze dell'ordine, sinergia istituzionale fortemente evoluta da questa amministrazione. Infine, la sindaca francese conclude Diciamo no a trasformare la zona industriale di Battipaglia in un polo del rifiuto. Diciamo no a trasformare la zona industriale di Battipaglia in un polo del rifiuto.